Carissimi famiglia salesiana, carissimi benefattori, amici, vi ringrazio di cuore per la vostra solidarietà, preghiera, vicinanza per quanto riguarda il Libano, questo paese dei cedri che sta soffrendo di una guerra feroce. Ci sono tanti sfollati da noi a casa di Don Bosco Al-Husun. Davvero grazie per tutti gli aiuti che state mandando, soprattutto la solidarietà nella preghiera, nell'affetto. Grazie di cuore.